Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 un chilometro di coda in diminuzione per un incidente adesso risolto in galleria al chilometro 197-500 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Genova. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Poggi Bonsi Sud e Colle di Valdelsa Nord in direzione Siena. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!